Allora, la mia prima domanda è potresti delinearmi un quadro di quella che è stata l'evoluzione dell'advertising in Italia. Quanto tempo abbiamo? In tutta un'ora. In realtà l'advertising in Italia, un po' come nel resto del mondo, non si è sempre evoluto, non c'è stata sempre un'evoluzione dell'advertising. Diciamo che per quanto riguarda la parte strettamente storiografica dell'advertising in Italia, nella sua versione moderna la pubblicità comincia negli anni 50, 60, quando i grandi network arrivano anche in Italia a mettere le loro bandierine, come hanno fatto nel resto dell'Europa e come faranno nel resto del mondo e aprono le loro agenzie. Quindi diciamo che in questo senso la pubblicità in Italia è stata più che altro subita. Una delle più grandi forse intuizioni della pubblicità italiana in chiave moderna è stata il carosello. Non esistono nel mondo altre realtà, altre storie. Una vicenda analoga non si trova nel resto del mondo. Ci sono le sopopera, se vuoi, negli Stati Uniti che nascono con lo stesso principio, da cui poi verrà ricavato il carosello e guarda caso la prima agenzia in Italia, l'Armando Testa, è figlia ancora di quella scia, le più grandi storie, i più grandi personaggi che sono ancora oggi nell'immaginario collettivo, per quanto riguarda la pubblicità in Italia, sono proprio legate al lavoro di un grande pubblicitario italiano come Armando Testa che ha creato alcune delle icone più ancora presenti nel nostro immaginario. Poi per il resto la pubblicità in Italia si è messa nella scia delle grandi agenzie internazionali e non credo sia mai riuscita a sviluppare un linguaggio, una grammatica, un'identità propria, se non appunto quella delle storie del carosello che guarda caso ancora oggi tornano nell'abuso dei testimonial, nelle storie, nelle commedia all'italiana che ancora tanta parte hanno nelle nostre pubblicità televisive. Quindi ti vorrei chiedere a che livello di maturità è arrivato l'advertising in Italia? Rispetto a quello a cui assistiamo ogni anno, per esempio se prendo come riferimento il festival della creatività mondiale che si svolge a Cannes a giugno ogni anno, non è che se ne esca tanto bene, ma non penso solamente a Cannes, penso ai principali award che ci sono, i principali premi, perché poi la pubblicità ha questo vizio di parlare continuamente in inglese e di usare uno slang ai più sconosciuto. Non gode di una buonissima maturità la nostra pubblicità, il festival di Cannes il più delle volte ci ignora, salvo eventi eccezionali come i 10, 12 leoni, i leoni sono i premi che il festival di Cannes attribuisce, perché c'è un retaggio che arriva dal festival del cinema di Venezia che poi è stato portato appunto a Cannes e il premio, il leone è rimasto. A parte appunto, dicevo, eventi eccezionali come i 12 leoni che sono stati, 10 o 12 adesso non ricordo, insomma tanti leoni che sono stati attribuiti a un'unica campagna italiana al festival di due anni fa, diciamo che la pubblicità italiana non è tra le cose che brilla di più nel panorama mondiale dell'advertising, mentre possiamo sicuramente dire la nostra in altri ambiti come il design, come la moda eccetera eccetera, nella pubblicità diciamo siamo piuttosto al traino. Viviamo da un certo punto di vista, secondo me una quindicina, una ventina di anni, adesso non vorrei esagerare, però insomma siamo un bel po' indietro rispetto alle macro tendenze a cui assistiamo, penso banalmente alla capacità che oggi, alla maturità che c'è oggi in alcuni paesi di sviluppare campagne di comunicazione in maniera cross mediale, quasi a prescindere dai canali, mentre questo è un paese che per il 60, il 70% dei suoi investimenti passa ancora attraverso la televisione, è un paese che usa internet in maniera superficiale, considerandolo ancora come un media e non come un habitat all'interno del quale portare i nostri messaggi in maniera più o meno rilevante. Noi tendiamo ancora a inseguire i miraggi del viral marketing, pensiamo ancora che una pagina su Facebook fa chicche non impegna, costa poco, le persone sono gratis, insomma tutte queste belle storielle un po' furbe che forse anche in altri paesi ci sono, ma qui in Italia in particolare c'è come un coefficiente proprio di furbizia, nel senso che l'illusione è quella che andare su Facebook sia una figata perché ci sono un sacco di persone. Anche all'interno dei social network molto spesso la logica è quella del GRP, che è una logica televisiva, cioè il GRP è l'unità di misura attraverso cui i centri media sono abituati a vendere gli spazi pubblicitari televisivi. Io mi sono sentito chiedere da un cliente quando era il prime time di Facebook, era un potenziale cliente, in realtà ero impegnato in una presentazione di gara e il mio interlocutore mi chiese il prime time di Facebook, quindi vedi che malgrado la sensibilità, cioè si avverte che questi siano tutto sommato delle modalità interessanti, nuove, inedite e coinvolgenti per mettere in relazione brand e persone, però purtroppo il mindset, cioè la psicologia dei nostri interlocutori è ancora ancorata alle logiche televisive, quindi bisogna raggiungere grandi audience possibilmente spendendo il meno possibile e magari anche in una logica monodirezionale, così come perché insomma l'interazione ci crei meno problemi possibili all'interno delle nostre pagine. Eppure parlando appunto di mezzi di diffusione, per quello che riguarda ad esempio gli Stati Uniti, uno degli eventi più importanti per quello che riguarda la pubblicità è il Super Bowl e quindi fondamentalmente lì il mezzo è comunque la televisione. Sì, però quello è proprio un evento mediatico, in realtà Maria non mi ricordo dove l'ho letto, guarda mi piacerebbe davvero darti la fonte e non passare per un millantatore di cattive notizie, ma ho letto da qualche parte che negli Stati Uniti il consumo di acqua rilevato durante la finale del Super Bowl sale drammaticamente proprio durante le interruzioni pubblicitarie, quindi anche lì vale la grande regola della pubblicità, vado a fare la pipì e quindi si attiva lo sciacquone e da qui l'aumento del consumo di acqua. Quindi questi signori in realtà spendono milioni di dollari per 30 secondi che più delle volte vengono o non visti o semplicemente guardati con superficialità, mentre per noi e comunque per gli addetti ai lavori, il Super Bowl resta un evento importante, un evento mediatico e quindi di conseguenza anche i suoi spot, però guarda caso a partire dal 2007-2008 molta parte degli spot migliori a cui assistiamo al Super Bowl sono praticamente i più belli almeno i più significativi sono quasi dei banner, cioè si mettono in televisione dei 30 secondi o dei filmati di un minuto per poi fare in modo che la gente rimbalzi e vada su internet a continuare una storia o viceversa. Si è preparata la gente, penso a le campagne Doritos che addirittura un mese, due mesi prima del Super Bowl hanno usato la rete in maniera molto significativa per portare le persone a poi assistere a un evento televisivo che era la pubblicità televisiva fatta da quel brand, ma che in qualche modo era stata anticipata dalla rete e poi continuerà ancora sulla rete, quindi la televisione viene usata in maniera molto più intelligente, lasciami dire, rispetto a quello che, la pubblicità televisiva, rispetto a quello che accade da noi, quando noi invece abbiamo subito l'euforia del digitale terrestre e mi ricordo che due anni fa i centri media, i broadcaster venivano nelle agenzie e ci presentavano il digitale terrestre come l'ultima frontiera della pubblicità interattiva e poi abbiamo visto invece il digitale terrestre rivelare tutte le difficoltà che ha di segnale e anche banalmente di cultura, rispetto a un palinsesso che si è moltiplicato in un paese che è abituato a 6-7 canali televisivi al massimo, figurati cosa vuol dire oggi fare pubblicità all'interno di un mezzo che praticamente non esiste. Senti, parlavi prima appunto di pubblicità cross mediale, qual è secondo te il modo migliore per sfruttare i diversi canali che si possono utilizzare per fare pubblicità? Dimenticarsi del canale, nel senso che le campagne che funzionano meglio sono quelle che si concentrano prima di tutto su un'idea, noi in Ogilvy addirittura ultimamente parliamo di ideale, quindi sono quelle attività di comunicazione che hanno al centro della scena un'idea buona di per sé, rilevante di per sé, se riesce a essere un ideale tanto di guadagnato, se riesce a fare qualcosa di buono per migliorare la vita delle persone, non solo la reclama intendo, è proprio il prodotto, il posizionamento eccetera, tanto di guadagnato dicevo, ma il canale quasi lo lasciamo da parte per un secondo, ci concentriamo sull'idea, facciamo in modo che questa idea possa il più possibile nascere da un insight, quindi da un sentire in qualche modo del consumatore e poi proviamo a vedere se un buon coefficiente di rilevanza, un altrettanto buon coefficiente di creatività permette a questa idea di muoversi in maniera autonoma all'interno dei diversi mezzi.